... Benvenuti a questo speciale classe NBC dagli studi di London DC e NBC Europe. Oggi il nostro gradito ospite è Stefano Potorti, Managing Director, Sagittal One, Consulenza nel settore della ristorazione. Benvenuto. Per cercare di fare un attimo il punto di quello che è il settore della ristorazione in Gran Bretagna. Io comincerei a fare un'ulteriore differenza tra Londra e il resto della Gran Bretagna. Negli ultimi 5-6 anni Londra è riuscita ad assurgere al ruolo di capitale mondiale della ristorazione. Londra in particolare è il fatto che comunque la gente debba mangiare in pochissimo tempo e che Londra abbia diversi milioni di abitanti aiutato a far sì che si sviluppassero tutta una serie di concept. Non ci dimentichiamo che la ristorazione comunque crea un indotto economico non indifferente perché crea un indotto economico locale fisicamente dove il ristorante è aperto ma anche di riflesso sul paese di provenienza dei prodotti. Cosa c'è veramente l'opportunità in questo paese? Le opportunità ci sono e sono tante, bisogna arrivarci con professionalità e condizione di causa. Grazie a voi per averci seguito in questo speciale Class MC dagli studi di Londra di CMBC Europe a più tardi. Arrivederci.